Bene le primarie, meno presenze nella scuola dell'infanzia. Salerno Città risponde così al primo giorno di ripresa delle lezioni in presenza. La conferma arriva dall'assessore comunale alla scuola Eva Vossa che monitora attraverso i dirigenti scolastici la risposta delle famiglie ed è al lavoro per risolvere anche tutti i problemi, anche di natura strutturale, che ancora attanagliano il mondo della scuola salernitana. Le notizie sono positive, in effetti sicuramente l'infanzia è meno frequentata stamattina della primaria che invece da molte scuole mi dicono che sono in presenza quasi tutti, qualcuna invece meno. No, però insomma diciamo che la situazione è soddisfacente soprattutto per il fatto che tranne in qualche situazione, insomma in qualche plesso, veramente non ci sono difficoltà per cui andiamo avanti, andiamo avanti. Conferma anche che il comune di Salerno si è preparato bene a riaprire, a consentire la ripresa della didattica in presenza. Questo sicuramente, noi abbiamo fatto veramente un enorme lavoro durante tutta l'estate per adeguare gli spazi alle nuove normative anti-covid, quindi sul distanziamento, insieme ai dirigenti e al loro staff che ringrazio veramente di cuore. Come ringrazio tutti gli uffici tecnici del comune, i dirigenti e tutti quanti gli altri dello staff perché davvero si è lavorato tantissimo, abbiamo dovuto a parte continuare a fare la manutenzione ordinaria, anche tante tantissime operazioni di manutenzione straordinaria, di adeguamento ma non solo, alcuni erano lavori previsti, altri invece dovuti a questa esigenza. Stiamo ancora continuando in effetti perché abbiamo visto purtroppo in questo periodo queste piogge così veramente straordinarie, hanno provocato parecchi danni nelle scuole e quindi stiamo facendo ancora dei lavori di riparazione e purtroppo sono più di 68 plessi per cui insomma il lavoro da fare è tanto. La novità anche per la scuola Carlo Alberto Alemagna, si faceva presente che la piazzetta dopo la tromba d'aria era ancora chiusa, sa lì invece l'intervento a che punto? Si sta lavorando, però io ero in riunione poco fa proprio per questo e si sta lavorando per definire questo lavoro, penso che al più presto si farà sicuramente. Grazie a tutti.